Benissimo. Allora, partiamo? Sei pronto, dottore? Eh sì, collaborate attivamente. Basta, posso andare via da qua perché tanto è tutto a posto, no? Sì, ti puoi spostare. Però a questo punto sta lì. Eh sì, a questo punto sto qua. Se vuoi passare, passa su. No, no, dai, su, ferma, su, ferma. Resta ferma. Per un qualsiasi caso della vita tua Ti capitasse di dover aver bisogno Di una struttura che ti accolga con calore Non andare a Borgo, Roma Non andare a Borgo, Trento Lascia perdere, tregnano Se tu vuoi resta contento Certo, guarda, non nel mare Ma tu meriti di più Colonia Un po' sperduta nella vassa Con le zanzale, l'umino e la nevia Ma qui c'è tanta umanità Ma qui c'è tanta umanità Nella è il mondo E' assai difficile trovare Delle persone pronte ad aiutare Con tanta e tale carità Qui Siamo arrivati dopo aver previnato In istituti ospedalieri In istituti ospedalieri Personale insufficente In istituti ospedalieri 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 Lala 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 La, dara lala la la, da la lala La, dara lala lala Lei non sale casa Non verbi è diverso bravo ogni volta che la canto mi piace di più